Dall'aeroporto del Grande Salento a Milano il costo di un biglietto è pari a 129 euro. La tariffa sale a 202 per raggiungere lo scalo aeroportuale di Torino e arriva a 207 per Pisa. Prezzi fuori controllo, come denuncia il Codacon, dopo aver condotto un'indagine conoscitiva sulla piattaforma specializzata Sky Scanner all'indomani del blocco alla circolazione dei treni fra Foggia e Benevento a causa della frana avvenuta tra Riano Urpino e Monte Calvo in provincia di Avellino. L'associazione annuncia un esposto all'antitrust. Chiediamo che venga aperta un istruttore urgente sul caso affinché verifichi la legittimità dei repentini rincari delle tariffe aeree, spiega il presidente del Codacon, Carlo Rienzi. Bisogna accertare se l'incremento delle tariffe registrato a seguito dello stop ai collegamenti ferroviari da e per la Puglia sia una pratica regolare, oppure se al contrario rappresenti una pratica commerciale scorretta attraverso una forma di speculazione su una causa di forza maggiore, come una frana che interrompe il traffico dei treni. Va avanti il presidente. Abbiamo verificato le tariffe dei voli da destinazioni nazionali per gli aeroporti della Puglia e abbiamo scoperto che i biglietti di sola andata per i collegamenti delle prossime ore arrivano a superare anche i 300 euro. Prosegue. Ad esempio, il volo Torino-Bari parte da un minimo di 355 euro, dice l'associazione. Per volare da Bologna a Brindisi sono necessari 267 euro, 242 se si parte da Torino diretti a Bari e quasi 200 euro se si vola da Verona o Venezia. Infine costa 268 euro il biglietto Palermo-Bari. I prezzi sono riferiti a biglietti per partenza in tutti gli orari del giorno, quindi anche la mattina presso o la sera tardi, e non tengono conto di balzelli aggiuntivi come il bagaglio a mano o la scelta del posto a sedere, aggiunge il Codacons, ma non è tutto perché l'associazione sta valutando di compiere un altro passo con l'obiettivo di frenare la corsa ai rincari. A questo punto, nel caso in cui le tariffe non scenderanno tornando a livelli normali, siamo pronti a denunciare anche le compagnie aeree per la possibile pattispecie di estorsione fa sapere Rienzi.